L'Apostolo Paolo ci mette davanti a due elementi che sono contrastanti agli antipoti. Lui parla di disobbedienza e di misericordia. Sappiamo che la disobbedienza non fa nient'altro che fomentare la rabbia, l'ira, il dispiacere e perché no anche la punizione. Qui invece Paolo a quanto pare afferma che la disobbedienza attira la misericordia. La disobbedienza di chi? Di gli uomini. La misericordia di chi? Di Dio. Cioè nella disobbedienza l'uomo sperimenta la misericordia, la straordinaria e l'infinita misericordia di Dio. Ma come è possibile? Sempre un paradosso irreale, ma in fondo, molti di voi che siete geritori e che in ogni caso vivete nella vostra carne la genitorialità, perché non esiste un uomo, una donna che non è padre e madre nel suo DNA. Voi che riuscite, in ogni caso, dinanzi alla disobbedienza, dinanzi a situazioni di figli vostri, sia nella carne, nello spirito, elementi che differiscono, ma in ogni caso il vostro cuore supera, va oltre questa disobbedienza. Immaginate il cuore di Dio padre. E questo ci aiuta a comprendere il Vangelo, che parla della gratuità, del fatto di invitare senza aspettarsi nulla. Ma come può essere uno gratuito, solo in un solo modo? Sperimentando la misericordia gratuita di Dio, solo chi fa esperienza di questo, sa vivere la gratuità in ogni suo elemento della vita. Che dirvi allora? Buon emissio. Buon emissio.